Siamo al liceo Buchner con la dirigente Assunta Barbieri, oggi un convegno intitolato Sotto attacco, di che cosa si parlerà? Allora, il convegno nasce con un progetto che stanno facendo alcune classi del liceo classico del liceo Buchner, su quella che è la figura di Giancarlo Siani, sulla sua figura di giornalista, sulle sue inchieste, soprattutto delle infiltrazioni mafiose, camorristiche e mafiose nell'ambito del lavoro. Il filo rosso è questo, però poi l'abbiamo collegato, chiaramente ieri è stato il trentennale della prima strage di Capace, quindi parleremo anche di questa realtà che purtroppo ancora c'è, delle infiltrazioni mafiose e soprattutto di quelli che sono, come dire, di quello che allora i giudici cominciarono a indagare, che ancora oggi purtroppo è una triste realtà. Questo progetto avrà poi un suo seguito a settembre, quando si parlerà nello specifico della figura di Giancarlo Siani.